Oakenham Ring, ultimo round della FIA Europea Formula 3 Championship e Formula 3 World Series Raffaele e Marcello, siamo agli sgoccioli, com'è andata questa qualifica? Non molto bene, ho fatto quarto e ottavo per la gara 1 e la gara 3 Potevo fare un quarto quarto, però sono stato staccolato nel mio giro veloce Che potevo fare un quarto quarto per l'esattezza Abbiamo un po' di problemi di bilanciamento, sbaglio due curve io Perciò non siamo velocissimi ma cercheremo di migliorare un po' il bilanciamento della vettura domani per la gara 1 L'avventura nell'ultimo weekend di gare comincia con un terzo gradino del podio, piuttosto soddisfacente Sì, partivo quarto, abbiamo raccorto il massimo possibile Stiamo cercando di mettere a posto la vettura, abbiamo un po' migliorato Io ho migliorato un po' le curve dove sbagliavo e è un terzo posto, è buono perché mi ha preso punti importanti Vediamo dopo per gara 2, parto sesto e proverò a fare più punti di Verlaine, Rossi, Quist e Dani Così dopo per gara 3, anche se parto ottavo, me la posso giocare Il tuo avversario ha rotto Il suo gap, vediamo che comincia a dimezzarsi, cominci a crederci di più? Io adesso appunto solo gara 2, gara 3, poi vediamo cosa succede in campionato Cerco di arrivare il più avanti possibile e vediamo cosa succede Pronti via, un grandissimo start, veramente una bella gara E un altro podio, questa volta Piazza d'Onore per te Che grazie anche all'out, al secondo out di fila del tuo avversario I punti in classifica cominciano davvero ad essere più vicini Sì, sono partito molto bene, la migliore partenza della mia vita di quest'anno Sono subito quarto, poi i sorpassi sono finito secondo la gara Adesso vediamo per domani, perché sono molto vicino in campionato, però parto ottavo Però come si sa, come sono le gare, quella della finale del campionato è sempre una scommessa Sembra cosa succede e vediamo, sicuramente cerco di dare da torcere a Dani E di fare il meglio possibile L'emozione potrebbe giocare brutti scherzi e potrebbe comunque fare la differenza? Sì, sicuramente l'emozione su tutti può giocare brutti scherzi Su chiunque, anche su di me o su Dani Però io parto ottavo e non ho nulla da perdere Dani sicuramente, secondo me, sentirà un po' di più la pressione Perché sa che si gioca qualcosa di importante e anche forse la sua carriera per l'anno prossimo E anche io sicuramente Però io darò un massimo, cercherò di fare il meglio possibile Già un secondo posto sarebbe un bel risultato a finale Doveva essere una gara di rimonta Così purtroppo non è stato, almeno in parte È comunque stata una gara 3 avvincente che ha chiuso, archiviato questo campionato Questo tuo splendido comunque campionato nella Formula 3 Euro Series e soprattutto nella FIA Europea Formula 3 Championship Sì, sono partito molto bene, ero subito il settimo davanti a Blomquist Poi dopo due macchine mi sono affiancate, io sono rimasto in mezzo Mi hanno fatto un po' la sandwich, non potevo andare a destra e a sinistra E ho piegato la sospensione e il bracetto Tutta la gara con il volante è storto, perciò ho fatto molta fatica a essere veloce per questo Senti Lello, quanto rammarico c'è? Sicuramente un po', perché avevo molto potenziale Ho fatto degli errori di inesperienza, ho avuto delle sfortune Perciò potremmo fare sicuramente meglio, però come primo anno non è male Un voto a questa tua stagione nel Formula 3 Euro Series? Darei un 7, perché sono arrivato terzo, perciò non è sempre nei primi tre Però potremmo fare meglio, ho fatto un po' di errori e perciò darei un 7, che non è male Qual è il miglior weekend? Sicuramente, fino a solo tre o quattro, Po è stato buono, Austria è stato buono Anche Po, Norris Ring poteva andare meglio, ma me l'ha buttato fuori Potevano essere tanti weekend buoni, ma per qualcosa o no sono andati un po' storti Qual è il peggiore? Penso Spado e non ne ho fatto neanche un punto, perché non avevo competitivi Non avevo competitivi, poi non ho preso la scena in qualifica Perciò ho sbagliato io, non andavo alla macchina e poi siamo andati malissimo La domanda è d'obbligo 2012 chiuso, 2013, Lello dove lo vedremo in pista? Non lo so, siamo ancora a ottobre, perciò c'è ancora molto tempo per decidere cosa fare E vedremo, vedremo